Indagini in corso sul caso della donna dello Sri Lanka intubata nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli assalita dalle formiche. I carabinieri del NAS di Napoli hanno presentato in procura tutta la documentazione ed hanno sentito anche alcune persone dell'ospedale, altri pazienti che avrebbero raccontato della presenza nei giorni scorsi delle formiche. Da giorni quindi si dovranno accertare le responsabilità. Restano sospesi sul provvedimento della regione campania dell'ASN Napoli 1, i medici e gli infermieri che erano di turno quel giorno in cui è stata filmata la donna srilanchese nel suo letto pieno di formiche. Si dovrà accertare anche se le ditte di polizia avevano eseguito il loro lavoro, il cui controllo spetterebbe agli organismi sanitari.